Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Via libera della Commissione Cultura, la bandiera della Lombardia. Il voto finale dell'Aula è previsto per fine mese. La Lombardia avrà presto la sua bandiera. La Commissione Cultura ha infatti dato il suo via libera all'adozione della rosa camuna sul sfondo verde che già sventola su tutti i pennoni regionali dal 1975 come bandiera ufficiale di Regione Lombardia. Insieme alla bandiera viene istituita anche la fascia come per i sindaci e i presidenti di provincia da fare indossare i presidenti di Giunta e Consiglio durante le manifestazioni. Questo è il senso di questo disegno di legge ovvero quello di ufficializzare quello che oggi già tutti riteniamo come la bandiera della Lombardia, come la nostra bandiera. Insieme abbiamo proposto anche la fascia regionale. I sindaci hanno la fascia tricolore e i presidenti di provincia hanno la loro fascia. È importante secondo noi che anche il presidente di Regione Lombardia o il presidente del Consiglio regionale o il loro delegato possano essere riconoscibili negli eventi ufficiali e quindi abbiamo anche colmato questa mancanza. Primo via libera la bandiera della Lombardia che sarà, udite udite, una croce stilizzata inclinata in senso orario argentea su Campo Verde. Non spaventatevi, è la bandiera di che conosciamo tutti ovvero la rosa camuna bianca su Campo Verde. Finalmente si è arrivati a stabilire che questa è la bandiera abbandonando tutte le idee un po' strane dei bozzetti comparsi negli ultimi anni e il Partito Democratico dice sì, confermiamo questa come bandiera della Lombardia. Viaggio tra le eccellenze del Niguarda da parte della Commissione Sanità che ha visitato l'unità spinale e il centro Spazio Vita che affianca e accompagna i pazienti e le loro famiglie fornendo spazi di aggregazione, aule informatiche e un centro di riabilitazione. La delegazione di consiglieri guidata dal presidente Emanuele Monti ha infine visitato anche l'AIMS Academy prima esperienza italiana multidisciplinare connessa via internet con i maggiori centri di eccellenza nel mondo e dove si possono approfondire e sperimentare le tecniche della chirurgia mini-invasiva. Grande successo di pubblico per il presepe ritrovato di Francesco Londogno ospite a Palazzo Pirelli dal 14 dicembre al 10 gennaio grazie alla collaborazione col Museo Diocesano di Milano. Oltre 15.600 persone tra cui il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi hanno varcato le porte del Consiglio regionale per ammirare l'opera inedita rimasta straordinariamente aperta al pubblico anche il giorno dell'Epifania. Il presepe di Londogno è un capolavoro del XVIII secolo conservato originariamente a Villa del Gernetto a Lesmo e oggi acquisito dal Museo Diocesano in seguito alla donazione della famiglia Bagatti Valsecchi. Grazie per averci seguito alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.